Ciao a tutti oggi prepareremo la pasta minestrone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono verdure miste fresche tagliate a pezzetti, acqua, dato vegetale fatto con il bimbi, sale, pepe, olio, parmigiano grattugiato e pasta corta. Andiamo in via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le verdure, aggiungiamo il pomodoro a pezzi, il sale, il pepe, l'acqua, il dado vegetale fatto con il bimbi e l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 35 minuti. 100 gradi anti orario, velocità 1. Il minestrone è pronto. A questo punto aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi anti orario, velocità soft. La pasta è pronta. Andiamo a impiattare. Pasta con minestrone. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.